Con il gremio dei fabbri e soprattutto con il suo obriere giovanissimo, 19 anni, Alessio Chessa, quanta emozione Alessio? Tanta, troppa forse. Perché troppa? È un qualcosa che ti porti dietro dalla più tenera età. Ci sono da quando ho tre anni e sono qui perché c'era nonno e quindi questa discesa la dedico a lui. Possiamo parlare di tradizione, di continuità, di passione, di fede? Sì, è sempre stata la stessa già da piccolo, sempre tanta. Cosa ti aspetti da Ghisarvarada? Che sia la più bella. Come si saluta? A cent'anni.